Un caro saluto da Diego Fusaro, talvolta anche una buona notizia e la trasmettiamo e commentiamo con giubilo. La notizia in questo caso ha per oggetto il fatto che Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, ha firmato il DDL che prevede il fatto che la carne coltivata o carne sintetica, che dir si voglia, non entrerà in Italia, non si produrrà in Italia, non sarà presente nel nostro paese, una buona proposta una volta tanto da questo governo. Si attende la verifica da parte dell'Unione Europea che, come sapete, invece preme moltissimo a ciò che la carne sintetica venga consumata e magari anche vada del tutto in futuro a sostituire la carne naturale, chiamiamola così. Per ora il governo italiano resiste e questa è una buona notizia. Forse l'unico punto su cui il governo italiano sta resistendo, bisogna pur riconoscerlo, è tuttavia come usa dire meglio poco che niente, anzi meglio un punto solo che niente in questo caso. Il governo italiano sta cedendo su tutto, come sapete, sull'imperialismo americano, sull'Unione Europea, sulle banche, però almeno su questo tema riesce a tenere il punto e ne prendiamo favorevolmente atto. Per parte nostra abbiamo già ricordato che la carne sintetica è l'emblema della civiltà della tecnica, una civiltà in cui perfino la carne è un prodotto tecnico ed è altresì un punto saldo del processo di smantellamento delle identità dei popoli europei, i quali tradizionalmente mangiano carne, fin dall'antichità è in uso in Europa il mangiare carne. Pensate al fatto che nei poemi omerici agli eroi più valenti venivano consegnate le parti di carne migliori e più abbondanti, ebbene siamo al cospetto della disidentificazione, come l'ho definita nel mio libro Difendere chi siamo, le ragioni dell'identità. Ecco perché tanta insistenza nella lotta contro la carne.